Sonia Bruganella rompe il silenzio sulla rottura tra Totti e Ilari Blasi, ogni parola è una ferita inferta ai figli. L'annuncio della separazione tra Francesco Totti e Ilari Blasi ha alzato un vero e proprio polverone mediatico. Tra i tanti che hanno commentato la rottura tra l'ex calciatore della Roma e la conduttrice ci ha pensato l'opinionista del grande fratello VIP, Sonia Bruganelli. È finita tra Ilari Blasi e Totti, parla Sonia Bruganelli, dopo ben 17 anni di matrimonio, Ilari Blasi e Francesco Totti hanno deciso di lasciarsi gettando l'opinione pubblica nello sconforto e provocando un'ondata di malcontento ma anche curiosità nei confronti delle cause di questo addio. A commentare la rottura tra i due e prendere le loro parti ci ha pensato anche Sonia Bruganelli. Ogni parola spesa su una coppia che dopo molti anni si lascia è una ferita inferta ai figli. Figli che meriterebbero solo di affrontare i difficili e inevitabili cambiamenti di vita. Ma senza dover leggere nei minimi dettagli ciò che avrebbe portato mamma e papà a non amarsi più. L'opinionista della settima edizione del grande fratello VIP, quindi, ha difeso la Blasi e Totti e si è scagliata contro tutti coloro che continuano a speculare sul gossip del momento e che diffondono i dettagli della fine del loro matrimonio, senza pensare ai figli indirettamente coinvolti. Intanto, mentre l'ex calciatore è stato pizzicato con Noemi Bocchi, nelle ultime ore è partita la caccia all'uomo per quanto riguarda il presunto amante della conduttrice Mediaset.